Musica Lei dovrebbe andare in cardiologia? O se non vi ha la medicina o cardiologia, dove c'è il posto? La stazione in media ha circa 10 pazienti al giorno in attesa di essere sistemati nel reparto del medicino e le parti affine. Comporta un disagio per i pazienti, per gli operatori medici che devono fare il pronto soccorso, per il personale paramedico, con un abbassamento totale sia dell'igienicità, della carenza dell'attenzione medica verso i pazienti che vengono in pronto soccorso e dell'attenzione medica verso i pazienti che sono ricoverati in pronto soccorso. Lungopolmonite, fibrillazione atriale che più delle volte trattiamo qua in pronto soccorso, cardiopatia con schemiche croniche, tutta la problematica della medicina, fin quando poi non vengono ricoverate nel reparto e passano in media dai 2 ai 4 giorni minimo. 2 ai 4 giorni in pronto soccorso? L'assistenza nel pronto soccorso viene garantita con un grande sacrificio da parte dei paramedici che oltre a fare il pronto soccorso devono anche prestare opera e soccorso ai pazienti ricoverati. C'è un medico del reparto la mattina che staziona solo per i ricoverati, nel pomeriggio il medico del reparto fa anche i ricoverati. C'è la mente del pronto intervento e garantita la medicina che è pronto soccorso. Il mio medico è cardiopatico, comunque c'è l'igualità al 100%, non è pensionato, fa tutto medicinato. Dovebbe andare in un reparto di cardiologia? E' necessario, comunque sta sempre lo stesso. E' un bel lavoro, mi fanno prendere un bel cardiologo, mi fanno visitare un po' e questa è la situazione. Gli ospedali non fanno niente più. Poi siete stati ricoverati anche in altre ospedali? Sì, sì, al cartellino sono stati ricoverati una scala qua, una moreta, ma gli ospedali non fanno niente più. Sebbene esiste una struttura commissariale, sebbene esiste un piano di rientro, praticamente si è fatto solo un'operazione di tipo ragioneristico di tagli, ma non si è provveduto assolutamente ad una politica strategica di sistema. Noi parliamo di tagli, praticamente di almeno 250 strutture complesse e di almeno 1000 strutture semplici nella regione Campania. Lei deve fare una visita dall'Endo-Criolo? Noi parliamo di tagli, a febbraio l'ho prenotata. A febbraio, ma a gennaio, a gennaio, a ottobre, l'8 ottobre. Quasi un anno ci vuole fare questa cosa. Eh, ho fatto una visita dalla casa di conca. La giardia privata, la giardia privata è già passata. Se lo fanno 300-400 euro al mese, al mese, le medicinavano a me e a mia moglie. E come fate? E in realtà, 500 milioni di prigione tra condominio e prigione. Diciamo a me, come mangiare, come viva? Ma poi non rimane niente dell'Auranzia. Non è da rimanere, ci vorrei stare a piesta, ci farebbero, perché non ci faccio a vivere. Non ci può stare qua, perché io tengo una fibrazione pazza, malata, hanno chiuso i manicomio, ma non hanno la stacca. Cioè qua, che ci sta in questo blamboso corso? Ci stanno vedere quelli che non fanno bene con la testa. Ci sono gente che non fanno bene con la testa, noi abbiamo anche paura di stare in questa stanza. Dottore, chiamatelo qua, stiamo via. Ma via, Ciro, 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 ora dobbiamo uscire. Non mi ha trattato, ma non mi ha trattato. Ma non mi ha trattato. Su, andiamo. Dottore, qua. Ma, dobbiamo uscire. Dottore, chiamatelo. Arrivano perché purtroppo questo è l'unico centro che accoglie Napoli 1, Napoli 2 e anche Napoli 3 per i malati di igiene mentale, vengono tutti quanti qua di pronto soccorso con il 118 o a piedi. Il sopraffondimento degli ospedali prevalentemente dipende dalla mancanza di un filtro, cioè nel senso che non funzionano i filtri territoriari o almeno non sono stati costruiti perché non è possibile che nell'ospedale si vada per la banale influenza. Il problema è che si va in ospedale perché non c'è una risposta territoriale, questo è il discorso. Per cui prima di mettere mano alla riorganizzazione della rete ospedaliera si deve prima creare la rete territoriale.